In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché si è salvata e viva. Ando con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi avveri senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, Chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero, Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici, Chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere con lei che aveva fatto questo. E la donna, imporita e tremante, sapendo ciò che gli era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e si guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro, Perché vi agitate piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo diridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse, Talita cum, che significa Fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Mi fermo su due gesti. Il primo è quello richiesto dal padre della fanciulla a Gesù. Il secondo è quello che attua Gesù nei confronti della ragazzina. Partiamo dal primo. Questo capo della sinagoga, che sappiamo dall'evangelista Marco chiamarsi Gairo, chiede a Gesù la guarigione della figlioletta. Anzi, chiede più di una guarigione, perché la bambina è morta. Chiede una risuscitazione. Ma non mi fermo sulla richiesta sproporzionata che viene fatta, quanto sul gesto con cui il padre chiede la risuscitazione. Chiede un gesto ufficiale, un gesto di benedizione, un gesto che ha accompagnato il ministero dei profeti nell'Antico Testamento. Il gesto solenne dei sacerdoti, che è passato d'autorità nella liturgia cristiana. L'imposizione delle mani. Il gesto religioso per antonomasia. E adesso andiamo al secondo gesto, alla fine del brano, quello che compie Gesù verso la ragazzina. Il gesto è il prendere per mano la ragazzina. Quindi nessuna imposizione delle mani, ma un prenderla per mano. Non un gesto religioso, ma un gesto di profonda tenerezza umana. Non un porsi dall'alto, ma un fianco a fianco di Gesù. Bellissimo. Sempre il numero uno, Gesù. Cosa mi suggerisce tutto questo? Per me è immediato. La ragazzina del Vangelo è metafora della nostra gioventù. Di cosa hanno bisogno oggi giovani per rinascere? Una certa generazione adulta chiede siano educati alla religiosità, alla dottrina. Loro, invece i giovani, hanno bisogno di umanità, di tenerezza. Non il Dio della religione, ma la condivisione della loro vita. All'attitare tra i più giovani è il Dio con la maiuscola. Il Signore terrifico dell'Antico Testamento, sostituito da un altro più dimesso, il Dio minuscolo delle piccole cose, che non è più un'entità carica di mistero, ma ha a che fare con la ricerca di un'armonia personale. Alla dimensione della trascendenza e dell'eternità, subentra quella dell'immanenza e la temporalità, e il Dio del timore cede il passo alla figura dell'amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.